capitolo 15 gli assassini inseguono pinocchio e dopo averlo raggiunto lo impiccano a un ramo della quercia grande allora il burattino perdutosi d'animo fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto quando nel girare gli occhi all'intorno vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa forse sarei salvo disse dentro di sé e se senza indugiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa e gli assassini sempre dietro e dopo una corsa disperata di quasi due ore finalmente tutto trafilato arrivò alla porta di quella casina e bussò nessuno rispose tornò a bussare con maggior violenza perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori lo stesso silenzio avvedutosi che il bussare non giovava a nulla cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella porta allora si affacciò alla finestra una bella bambina coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto la quale senza muovere punto le labbra disse con voce che pareva venisse dall'altro mondo in questa casa non c'è nessuno sono tutti morti aprimi almeno tu gridò pinocchio piangendo e raccomandandosi sono morta anch'io morta e allora che fai costi alla finestra aspetto la bara che venga a portarmi via appena detto così la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore oh bella bambina dai capelli turchini gridava pinocchio aprimi per carità abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assas ma non poté finire la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente ora non ci scappi più il burattino vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua dunque gli domandarono gli assassini vuoi aprirla la bocca sì o no ah non rispondi lascia fare che questa volta te la faremo aprire noi e cavato fuori due coltellacci lunghi lunghi affilati come la zoe zaf gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni ma il burattino per sua fortuna era fatto di legno durissimo motivo per cui le lame spezzandosi andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia ho capito disse allora uno di loro bisogna impiccarlo impicchiamolo impicchiamolo ripete l'altro detto fatto gli legarono le mani dietro le spalle e passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola lo attaccarono a penzoloni al ramo di una grossa quercia detta la quercia grande poi si posero là seduti sull'erba aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto ma il burattino dopo tre ore aveva sempre gli occhi aperti la bocca chiusa e sgambettava più che mai annoiati finalmente di aspettare si voltarono a pinocchio e gli dissero sghignazzando addio a domani quando domani torneremo qui si spera che ci farà la garbatezza di farti trovare bello e morto e con la bocca spalancata e se ne andarono intanto si era levato un vento impetuoso di tramontana che soffiando e mughiando con rabbia sbatacchiava in qua e là il povero impiccato facendolo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suona a festa e quel dondolio gli cagionava acutissimi spasmi e il nodo scorsoio stringendosi sempre di più alla gola gli toglieva il respiro a poco a poco gli occhi gli si appannavano e sebbene sentisse avvicinarsi la morte pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto ma quando aspetta aspetta vide che non compariva nessuno proprio nessuno allora gli tornò in mente il suo povero babbo e balbeltò quasi moribondo oh babbo mio se tu fossi qui e non ebbe fiato per dire altro chiuse gli occhi aprì la bocca stirò le gambe e dato un grande scrollone rimase lì come intirizzito capitolo 16 la bella bambina dai capelli turchini far raccogliere il burattino lo mette a letto e chiama tre medici per sapere se sia vivo o morto in quel mentre che il povero pinocchio impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande pareva oramai più morto che vivo la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e impietositasi alla vista di quell'infelice che sospeso per il collo ballava il trescone alle ventate di tramontana batte per tre volte le mani insieme e fece tre piccoli colpi a questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con fuga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzare della finestra che cosa comandate mia graziosa fata disse il falco abbassando il becco in atto di reverenza perché bisogna sapere che la bambina da capelli turchini non era altro in fin dei conti che una buonissima fata che da più di mille anni abitava nelle vicinanze di quel bosco vedi tu quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande lo vedo or bene vola subito laggiù rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato al sull'erba al piede della quercia il falco volò via e dopo due minuti tornò dicendo quel che mi avete comandato è fatto e come l'hai trovato vivo o morto a vederlo pareva morto ma non deve essere ancora morto per bene perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola ha lasciato andare un sospiro balbettando a mezza voce ora mi sento meglio allora la fata battendo le mani insieme fece due piccoli colpi e apparve un magnifico can barbone che camminava litto sulle gambe di dietro tale quale come se fosse un uomo il can barbone era vestito da cocchiere in nivrea di gala aveva in capo un nicchiettino a tre punte gallonate d'oro una parrucca bianca coi riccioli che li scendevano giù per il collo una giubba color di cioccolata coi bottoni di brillanti con due grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava pranzo alla padrona con un paio di calzon corti di velluto cremesi le calze di seta gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli tutta di raso turchino per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere su da bravo medoro disse la fata al can barbone fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco arrivato che sarai sotto la quercia grande troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto raccoglielo con garbo posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui hai capito il can barbone per fare intendere che aveva capito dimenò tre o quattro volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema coi savoiardi la carrozzina era tirata da cento pariglie di topini bianchi e can barbone seduto a cassetta schioccava la frusta a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi non era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata che stava aspettando sull'uscio di casa prese in collo il povero burattino e portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madre perla mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato e i medici arrivarono subito uno dopo l'altro arrivò cioè un corvo una civetta e un grillo parlante vorrei sapere dall'orsignori disse la fata rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di pinocchio vorrei sapere dall'orsignori se questo disgraziato burattino sia vivo o morto a questo invito il corvo facendosi avanti per il primo tastò il pulso a pinocchio poi gli tastò il naso poi il dito mignolo dei piedi e quando ebbe tastato bene pronunciò solennemente queste parole a mio credere il burattino è bello e morto ma se per disgrazia non fosse morto allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo mi dispiace disse la civetta di dover contraddire il corvo mio illustre amico e collega per me invece il burattino è sempre vivo ma se per disgrazia non fosse vivo allora sarebbe segno che è morto davvero e lei non dice nulla domandò la fata al grillo parlante io dico che il medico prudente quando non sa quello che dice la miglior cosa che possa fare è quella di star zitto del resto quel burattino lì non m'è fisionomia nuova io lo conosco da un pezzo pinocchio che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto quel burattino lì seguito a dire il grillo parlante è una birba matricolata pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito è un buonellaccio uno svogliato uno vagabondo pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli quel burattino lì è un figliolo disubbediente che farà morire di crepa al cuore il suo povero babbo a questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di piante e di singhiozzi figuratevi come rimasero tutti allorché sollevate un poco i lenzuoli si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era pinocchio quando il morto piange è segno che è in via di guarigione disse solennemente il corvo mi duore di contraddire il mio illustre amico e collega soggiunse la civetta ma per me quando il morto piange è segno che gli dispiace a morire abbiamo letto le avventure di pinocchio storia di un burattino di carlo collodi editore giunti grazie a tutti